ciao a tutti e benvenuti nel mio canale allora da come avrete potuto notare dal titolo e dalla fotocopertina oggi sono qui con un altro video della tipologia che so che vi piace un sacco ovvero video in verticale, senza attrezzatura, senza niente solo puro, 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 relax come vecchi tempi perdonate appunto eventuali rumori in sottofondo sicuramente si sentiranno gli uccellini ma quello è un suono piacevole non è un rumore fastidioso quindi non mi posso sentire perdonatemi se ci saranno rumori molesti ma non dipendono da me prima di iniziare il video vi ricordo che se volete farmi un regalino per supportare il canale trovate nell'info box il link per la wishlist di amazon e ci sono un sacco di cosine stra carine e secondo me stra triggerose quindi se va e magari siete anche solo curiosi vi invito ad andare a dare un'occhiata trovate tutto qui sotto io direi di non perderci in altre chiacchiere ed iniziare subito 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 con il video ovviamente è un video con trigger random insomma quindi ci saranno diversi trigger come hand movement tongue clicking, mouth sound comunque division trigger magari slow 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 e fast un mix di slow and fast un po' di tapping e magari un po' di che spero si sentano senza il microfono io direi appunto di non perderci in altre chiacchiere ed iniziare subito 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 con il video tu rilassati 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 mettiti straiato in un posto comodo e non pensare a niente ok questo è il tuo momento questo è il tuo momento qui so avanti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.